Si muotranno, tenuto conto che per voi la creatività si apprime in pittura, scultura, design, disegno, fotografia, ceramica, vetro, film, cinema, video, quindi almeno dieci settori, io credo che non dovrebbero essere in Italia circa dieci mila artisti degli di attenzione, ma non sono solo dieci mila, sono molti di più quelli che producono. E quindi una volta articolato, come ho cercato di fare con una coraggiosa biennale, un gruppo, mi hanno risposto in quattro mila, non era mai capitato, ma era il modo in cui volevo dire che non tocca a me dire che si va bene, che non amate, che ti potrei semplicemente far prevalere il mio gusto sulla vostra libertà. Ma le precedenti inizioni della biennale, curate dai miei colleghi, non la fatte in questo modo. Quando si vivia prima di più d'Italia, ci fu una giovane, una maggior giovane, signifia d'arte, che portò due artisti, due. Ma iniziana successiva mi portavano diciotto, quando sono arrivato io mi portavano quattro mila, dopo di me quattordici.